dal resto dal vivo e come dire oggi non mi va di fare nessuna live in youtube però se voi andate a guardare i miei ultimi video vi farete un favore il mio canale lo conoscete già ma ve lo ricordo san ten chan e poi e poi mi raccomando anche qua su instagram utilizzate il mio hashtag il mio hashtag san ten chan perché avrete l'opportunità avete l'opportunità di aumentare le visualizzazioni dei post io non vi offro nessun trucco magico nessuna cosa strana nessuna musica da copiare appiccicare da scaricare ma vi dico semplicemente di mettere hashtag san ten chan lo metto adesso qua nella chat così san ten chan ecco qua se voi mettete questo hashtag che adesso sta nella chat san ten chan nella descrizione dei vostri video e foto qua in instagram nella descrizione dei vostri video in youtube ciao caro san mi dice conte ciao conte conte si è unito mi fa piacere averti qua in live allora vediamo per quanto tempo posso stare qua altri sei minuti almeno una persona in live poi voi vi vedrete la live quando perché oggi sono uscito in un'altra piattaforma in live però ecco io io sto facendo video grazie a te conte ti seguo sempre su youtube e vi invito a tutte e tutti voi di seguirmi su youtube poi logico che oggi non sto su youtube devo vedere poi un video che vediamo un po ecco qua ogni piattaforma è a modo suo devo vedere sto video dell'avvocato francesco catania intanto è partita la chat come potete vedere ma il video sarà disponibile tra cinque minuti poi dietro di me si può guardare vediamo se si può guardare che ho comprato il 3 il tripode con l'anello per fare le selfie e ancora non lo utilizzo ancora non lo utilizzo sul viola ci sono anch'io sì ho fatto una una live che poi con questo cellulare mi viene abbastanza bene però non mi segue nessuno a me sul viola non mi segue nessuno ho utilizzato il tripode per fare la live anche bello guarda con questa con instagram l'effetto del colore degli occhi non se ne va però si vede meglio senza occhiali senza occhiali non ci vedo io ho dovuto fare due paio di occhiali questo mezza distanza per per vedere il computer che anti riflesso della luce blu e poi l'altro il bifocale che anche questo contro la luce i raggi uvia e credo anche contro i raggi blu del monitor perché tutta la luce che riflette la fa violacea di solito gli occhiali la riflettevano bianca la luce una volta quindi questo ha dei filtri questo ma questo qua non so se anche per credo di no perché trasforma in verde questo contro la luce dello schermo azzurra che poi non ti fa dormire di notte perché prof a proti fa produrre troppa melatonina infatti i figli schermi di luce blu gli hanno inventato già negli anni 70 80 in svezia e si usavano nel nord europa proprio perché lì con la mancanza di sole che dura 9 mesi la gente si può deprimere e fare delle cose brutte sporche e cattive io li faccio col pc mi sono rovinato gli occhi sì lo so dicono che troppo tempo davanti al computer rovina gli occhi devi farti degli occhiali vabbè se gli usi gli occhiali che abbiano la lente contro la luce azzurra dello schermo e anche la luce solare perché anche gli ultravioletti ho perso molta vista leggendo leggendo libri leggendo libri ho perso molta vista capito infatti guarda guarda quanti libri ho letto guarda guarda quanti libri ho letto ho letto ho letto molti libri quelli sono i libri e questo è il letto questo è il letto col pigiama sopra quindi ho letto molti libri molti libri ho letto ho letto ha 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 non so se hai capito no se hai capito il gioco di parole ho letto molti libri che poi lì ci si vede il treppiede che ho fatto comprare a mia madre me l'ha subito comprato adesso lo debba utilizzare però non so come aiuto perché mi viene un primo piano mostruoso se mi filmo da lontano non si sente che faccio che faccio beh ti devo lasciare ben o non ti devo lasciare perché vediamo un po sta per iniziare come potrei vedere la premiere dell'avvocato catania francesco su youtube e allora io allora prima o poi tra due minuti non mi ricordo cosa ha mangiato ma caduto come piombo ciao caro sano vado io a va bene mi raccomando guarda i miei video su youtube che che poi io guarderò i tuoi io appena inizio il programma taglio mancheranno perché lui lui fa io faccio un conto alla rovescia su youtube di cinque minuti ma c'è gente che rifà solo di due minuti incredibile inizia 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 ok ragazzi andrea lucidi mi ha accusato di dire un nucleo di falsità ciao ci dobbiamo lasciare anche stefano orsi ha iniziato passi di dire Grazie.